Bentornati su MyFootballJersey. In attesa di vedere le maglie per la stagione nuova, vediamo una maglia del 2022, l'edizione Statement dei Chicago Bulls, in edizione Swingman. Per la stagione 2021-22, le maglie Statement Edition di tutte le 30 squadre presentano l'iconico design Jumpman. Colori e dettagli audaci alternati contraddistinguono la Statement Edition, una maglia che si impolleggia la forza collettiva, lo spirito e la mentalità competitiva del roster. La maglia Jordan NBA Statement Edition Swingman dei Chicago Bulls si ispira a ciò che indossano i professionisti. È realizzata in pregiato tessuto a doppia maglia, con una vestibilità comoda, che sta benissimo ai fan. Stampa del nome della squadra e numero 23 sul davanti. Nome e numero del giocatore sulla parte posteriore. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%. Magnifica! Questa maglia, secondo me, è magnifica! Nella mia personalissima classifica prende 5 stelle. Bellissima questa riga sottile che, diciamo così, dà un tono più frizzante a questo nero. È bellissima questa rifinitura in rosso. Il costo, lo vedete qui sopra, che per una maglia fatta così bene, con dei tempi di spedizione così veloci, questa arrivata in 19 giorni, è bassissimo. In descrizione vi ricordo che trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Vi ricordo anche che trovate un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero che possiate mettere un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1 metro e 75 e peso a 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media. Ciao!